Il mese di dicembre è ormai iniziato, si inizia a sentire un po' quell'atmosfera natalizia, regali che bisogna preparare, fine anno da organizzare in vista poi del nuovo anno e di tanti buoni propositi? Beh, per il mondo del wrestling sostanzialmente è un po' lo stesso, ma intanto benvenuti e benvenute ancora una volta su Wrestling Unico Amore, canale YouTube, sezione del nostro progetto dove portiamo occasionalmente dei video in formato ridotto ma anche in versione estesa con il nostro podcast, ma siamo attivi anche sui social tutti i giorni, su Instagram, su Facebook, anche su Telegram dove abbiamo un gruppo dove ci potete raggiungere e chiacchierare quotidianamente con noi e tutti i link li trovate qui sotto in descrizione, quindi se oltre a volerci supportare qui volete venire a seguirci anche sulle altre piattaforme dove siamo presenti sappiate che ci fate un grandissimo favore e ci date una grande mano a continuare a portare avanti le nostre attività, ma intanto entriamo nel vivo di quello che è il contenuto di oggi, una notizia che comunque sia sta facendo un po' il giro del mondo suscitando diverse reazioni positive e negative, ovvero Sasha Banks potrebbe essere a Bresley Kingdom 17, il più grande evento del New Japan, l'evento principale del calendario New Japan che è come tanti altri eventi grossi giapponesi ad inizio anno e quest'anno comunque sia la New Japan a due serate sì ma un po' distaccate l'una dall'altra e sembra voler mettere il carico da 90 su ognuna delle due serate. Nella prima serata appunto si prevede anche la presenza di Sasha Banks, la notizia viene da PW Insider a cui poi hanno fatto seguito tutti gli altri quindi Wrestling Observer, Wrestling Inch, sono andati un po' tutti dietro a questo grande rumor che vede la stella della WWE apparire in quella che è appunto la più grande kermess della New Japan Pro Wrestling, non si sa effettivamente con quale ruolo ma quello che un po' si odora, si annusa in giro è un suo coinvolgimento nelle dinamiche del titolo IWGP Women's World Champion, una cosa che è stata introdotta recentemente dalla New Japan con un torneo di assegnazione che si è concluso in un evento congiunto fra New Japan e Stardom tenutosi nel mese di novembre e che ha visto Kairi trionfare su Mai Iwatani nella finale. Il tutto diciamo ha messo Kairi sotto una luce molto particolare dato che lei oltre a essere presente in Stardom adesso è ufficialmente anche parte delle dinamiche della New Japan che le ha già trovato comunque una sfidante per Wrestling Kingdom quindi Sasha Banks non è che arriva magari e sfida Kairi per un match lì per lì sul momento, assolutamente no. Kairi ha la sua sfidante in Tam Nakano, un'altra atleta in forza alla Stardom che potrebbe dare vita a un match molto interessante e bello con la principessa pirata e quindi appunto una situazione che è già fissa, è già inserita nella card di Wrestling Kingdom ma potrebbe esserci un post match. E infatti l'altra cosa che in qualche modo è molto tangibile è che Sasha non sarà eventualmente solo una spettatrice ma eventualmente avrà un faccia a faccia con la vincitrice di quello che sarà il match titolato quindi che vinca Kairi o Tam Nakano si pensa che Sasha comunque avrà un confronto con appunto la campionessa IWGP. Personalmente sarebbe interessante soprattutto un confronto con Kairi dato che le due hanno una storia che li sale ai tempi della WWE e comunque si hanno anche una conoscenza un po' già affermata, collaudata ma comunque sia penso che in generale sarebbe interessante vederla a priori magari anche contro Tam Nakano stessa. Il tutto diciamo potrebbe permettere anche a Sasha poi di prepararsi al meglio per un'eventuale performance futura. E la WWE direte voi? Beh con la WWE sostanzialmente Sasha è fuori dalle scene da maggio dal mese in cui lei e Naomi per via di divergenze creative hanno lasciato le cinture nel backstage e sono andate via dall'arena. Da quel periodo Sasha non si è più fatta vedere comunque negli show della WWE né si è fatta vedere in giro pur continuando comunque occasionalmente anche ad allenarsi. È stata anche in Europa dove ha incontrato Miyu Yamashita quindi in qualche modo diciamo che Sasha si è tenuta impegnata in questi mesi ha comunque riempito la sua vita in modo alternativo alla WWE e nel mese di ottobre ha fatto due cose particolari. Innanzitutto ha registrato i diritti sul suo vero nome Mercedes Varnado che secondo me è anche il nickname con cui potrebbe apparire tranquillamente in un eventuale spettacolo fuori dalla WWE premesso comunque sia che appunto non ci siano problematiche contrattuali ma c'è stata anche in qualche modo una volontà espressa di Sasha Banks per arrivare ad un match contro Kyrie. Infatti sempre nel mese di ottobre quando ormai era ufficiale l'introduzione del titolo IWGP Women's sui social ha iniziato a girare una grafica molto particolare che vedeva Kyrie contro Sasha Banks e proprio Sasha Banks ha condiviso questa sua grafica nel suo profilo Instagram con una faccia che in qualche modo faceva pensare che appunto ci stesse pensando a questa eventualità di affrontare Kyrie in Giappone. Una situazione tutta sostanzialmente da scoprire, tutta da vedere e per la quale io sarei onestamente molto interessato. Trovo che comunque sia creare un proprio titolo nel caso della New Japan per le donne sia una scelta azzeccata. Personalmente credo che nonostante la proprietà di New Japan e Stardom sia la stessa, le due sigle non debbano per forza mangiare costantemente allo stesso tavolo. La Stardom ha un suo percorso già avviato, già costruito con le donne, è una federazione solamente di wrestling femminile, di Joshi, quindi prendere quelle dinamiche e calarle occasionalmente negli spettacoli della NJPW secondo me sarebbe molto forzato. Tra l'altro la NJPW comunque sia ha un suo percorso ancora da costruire con le donne, con il wrestling femminile, non c'è mai stata una divisione femminile in NJPW, quindi è ancora una situazione dove bisogna mettere tassello su tassello per convincere comunque anche gli spettatori della NJPW a interessarsi a un wrestling comunque sia che negli show NJPW non era molto presente in precedenza. E se pensate che in qualche modo New Japan e Stardom, dato che hanno la stessa proprietà, fanno anche gli stessi numeri, beh no, assolutamente no, perché comunque sia i due brand hanno una rilevanza diversa, hanno una fama diversa e soprattutto comunque hanno eh dinamiche e atleti comunque diversi, quindi eh sì la stessa proprietà ma il percorso non è lo stesso e io onestamente sono contento che la red e la white belt eh le cinture principali comunque del mondo Stardom rimangano eh non dico confinate perché appunto termine dispregiativo potrebbe essere anche quello ma rimangano comunque legate a quelle che sono gli show e le situazioni riguardanti la Stardom. La New Japan vuole costruire qualcosa di suo, un percorso suo per il suo brand con le donne, che non vuol dire schifare eh le cinture della Stardom o comunque il lavoro che fa la Stardom assolutamente no, ma semmai vuol dire rispettare quel lavoro e permettergli comunque sia magari un domani di avere uno spotlight in uno show NJPW senza che in qualche modo comunque sia messo al servizio delle dinamiche della eh della compagnia. Quindi ben venga a mio avviso questa cintura che eh appunto ha ancora una storia tutta da scrivere e il bello sostanzialmente è anche questo secondo me le storie da scrivere per i per gli atleti ma anche per le cinture anche per esempio per una stipulazione speciale è sempre bello secondo me quando una storia è ancora da scrivere e non deve arrivare a far sentire tutta la sua pesantezza, tutta la sua fame, tutto il suo peso in modo eh prepotente. Quindi appunto Sasha Banks è un profilo che secondo me va molto bene per eh questa costruzione per dare un'impronta una fama internazionale a quello che può essere il futuro del titolo IWGP ehm eh women's e appunto staremo a vedere se eh tutto questo in qualche modo avrà un effettivo seguito o se come tanti rumor resterà confinato a quella che è la sfera di discussione del web. Fatemi sapere cosa ne pensate voi se siete d'accordo comunque sia ehm nel vedere Sasha Banks in Giappone già in un ruolo così di spicco, di primo piano come sarebbe quello di un match titolato in New Japan o se magari in qualche modo avreste sperato in un percorso un po' più graduale. In tutto questo ovviamente è da vedere cosa ne penseranno a Stanford qualora effettivamente dovesse concretizzarsi un'opportunità del genere ma direi che tutto questo lo lasceremo comunque per quando avremo effettivamente qualcosa di più concreto su questa situazione. Intanto appunto teorizziamo, parliamo insieme, volate qui sotto nei commenti oppure raggiungeteci anche sul nostro gruppo Telegram. Dal vostro Draco è tutto, l'appuntamento e a un prossimo video sempre qui su Wrestling Unico Amore.